La stretta di mano tra il presidente Andrea Dilucente e Tommaso Coletti sancisce l'accordo. L'ex Foggia, Matera e Cerignola è il nuovo allenatore del vasto Girardi. Ancora una volta il club alto molisano punta su un giovane. Coletti è nato il 9 maggio del 1984 a Canosa di Puglia, vanta oltre 400 presenze nei campionati professionistici di C e B. Era un centrocampista roccioso, di temperamento ma dalla grossa personalità, con una grande visione di gioco e in panchina sarà un martello e lavorerà duramente sul campo. Molti campionati vinti in carriera, importante la collaborazione con mister Gautieri a Trieste in Lega Pro. Ora pro dal vasto Girardi e si accinge a seguire il suo percorso da allenatore dove saprà sicuramente amalgamarsi ottimamente con l'idea di gioco della dirigenza. Determinato a partire al più presto sicuramente non avrà alcuna difficoltà a calarsi nella realtà alto molisana. A vasto Girardi lo ha portato il DS Giuseppe Giglio nello scatto insieme al nuovo mister, al presidente Andrea Di Lucente e al direttore generale Antonio Crudele. Coletti potrà avere a disposizione l'esperto Ruggeri con cui l'accordo è dietro l'angolo e i riconfermati a Kunso, Gargiulo, Salatino e Alagia funzionali al progetto a prescindere dal modulo e nelle grazie della società perché si sono sempre contraddistinti anche fuori dal rettangolo verde.